Differenze minime per una coincidenza da brivido. Lo stesso giorno, il 4 gennaio, ad unire due tragedie lontane 5 anni e dal massimo una decina di miglia. Quelle dal punto in cui si presume sia caduto nel 2008 l'aereo che trasportava 8 turisti italiani, tra cui 4 componenti della famiglia Durante di Treviso, i genitori Paolo e Bruna, le piccole figlie Emma, Viola e Sofia. A 20 miglia dallo scalo di Los Roques. E invece a 10 miglia dall'aeroporto caribico non ha dato più notizie di sé da mezzogiorno di venerdì un bimotorico a bordo altri 4 italiani, fra cui il figlio dello stilista Ottavio Missoni Vittorio. Poche ore di ricerche in mare interrotte per l'oscurità che all'equatore piomba inevitabile poco dopo le 18, riprese nella mattinata di sabato. E dall'Italia, soprattutto dai parenti delle vittime di 5 anni fa, la richiesta di organizzare meglio le ricerche. Sarebbe bello poter dire i soccorsi. Da 2008 il mare ha restituito soltanto un corpo, riconosciuto come quello del copilota. Degli altri 9 poveri resti, dello stesso aereo della compagnia Transaven, mai nessuna traccia. Ma anche l'accusa di ricerche svolte in modo troppo persapochistico dall'autorità venezuelana. Un settimanale dei giorni scorsi rilanciò l'ipotesi che il velivolo non fosse precipitato, ma venne invece dirottato da un gruppo di narcotrafficanti colombiani durante i 140 km di tragitto che separano Los Roques dalla costa venezuelana. Ed è previsto proprio il 29 gennaio prossimo l'invio nella zona di una nave dotata di apparecchiature sofisticate per i rilievi marini alla ricerca appunto del relito.